Buongiorno a tutti sono Gerardo Bonomo siamo arrivati alla quinta puntata dei nostri video tutorial su Asselblad siamo arrivati finalmente al momento dello sviluppo delle pellicole quindi abbiamo lavorato con delle rolle superpan 200 le svilupperemo con l'idrofen o idrofen di Bellini però anziché alla diluizione suggerita 1 più 15 faremo una diluizione 1 più 31 e svilupperemo per 13 minuti pre bagno in acqua a 20 gradi del rubinetto per un minuto 13 minuti di sviluppo un minuto di arresto usando sempre un prodotto della Bellini questo stop della Bellini per un minuto diluito 1 più 19 e poi 6 minuti di fissaggio usando sempre un prodotto della italiana Bellini che è l'FX100 diluito 1 più 4 per 5 o 6 minuti. Per chiudere dopo il lavaggio di 20 minuti in acqua a 20 gradi corrente faremo un bagno in acqua depurata o demineralizzata a piacere con il nostro wetting agent così da essere certi che non rimangano macchie di calcare sulla negativa. I negativi sono tre, speriamo che su tre negativi quindi 36 pose su un Asselblad tre foto buone siano venute. Useremo una tank della Patterson questa è una delle tank più alte di Patterson che accetta o 5 spirali preparate per il formato 24-36 oppure tre spirali preparate nel formato 120. Una, due e tre. Quindi le svilupperemo contestualmente quando per ogni spirale in formato 120 occorrono 500 millilitri per ciascuna soluzione quindi 5 per 3,15 quindi lavoreremo con 1500 millilitri di sviluppo, 1500 millilitri di arresto e 1500 millilitri di fissaggio. Bene, iniziamo il trattamento e poi a fine trattamento vediamo il risultato. A dopo! La pellicola 135 per essere inserita nella spirale non ha bisogno all'inizio del buio assoluto nel senso che una volta che è stata eliminata la coda basta inserire la pellicola alla luce fino a che non sorpassa le due sferette di acciaio di blocco e poi a questo punto si spegne la luce e si può cominciare a caricare la pellicola nella spirale questa tra l'altro è una spirale particolare della AP non è la tradizionale Patterson che ha il caricamento facilitato quindi per quanto riguarda la pellicola 135 alla luce si può innestare la coda della pellicola poi si spegne la luce e si carica completamente la pellicola nella spirale per quanto invece riguarda la pellicola 120 le cose sono diverse innanzitutto si posiziona la spirale nel punto utile per poter caricare la pellicola 120 questa è una pellicola 120 già esposta ma da questo momento in poi è necessario lavorare già nel buio più assoluto non è possibile come nel caso del 135 poter far sporgere una parte anche piccola della pellicola avvolta nella carta e iniziare il caricamento nella spirale perché dopo pochi millimetri dall'inizio della pellicola c'è già il primo fotogramma quindi nel buio più assoluto quindi bisogna spegnere la luce nel buio più assoluto si inizia a srotolare la carta della pellicola in questa maniera si arriva alla pellicola e questo è il motivo per cui non c'è nessuna possibilità di poterne ingaggiare soltanto un frammento perché si brucierebbe già ripeto un intero fotogramma si prepara la spirale in questa posizione questa torno a dire è una spirale ad aggancio facilitato della P con le spirali della Patterson la cosa è simile ma è leggermente più complessa si inserisce la coda della pellicola all'interno della spirale si fa in modo che la pellicola oltrepassi le due sferette d'acciaio di blocco e poi lentamente si comincia a caricare la pellicola all'interno della spirale con il solito movimento alternato ripeto nel buio più assoluto nel frattempo si svolge la pellicola la carta man mano si srotola da un'altra parte quando siamo arrivati alla fine della pellicola manca poco la pellicola 120 è più corta della pellicola 135 quando siamo arrivati alla fine della pellicola arriviamo nel punto dove il nastro adesivo posizionato in fabbrica aggancia la pellicola alla carta si strappa la carta dalla pellicola e poi con delicatezza con molta delicatezza si estrae, si stacca la parte di adesivo che è rimasta sulla pellicola per evitare di inquinare poi il bagno di sviluppo in questo modo si prosegue finché la pellicola non è completamente inserita nella spirale si prende la tank si inserisce sempre al buio la spirale all'interno della tank si chiude e a questo punto noi siamo pronti per il processo di sviluppo anzi pre bagno, sviluppo, arresto, fissaggio e lavaggio da questo momento in poi chiaramente è possibile accendere la luce bene allora il processo è terminato i negativi sono stati pre lavati in acqua corrente a 20 gradi sviluppati in hydrofen 1 più 31 per 13 minuti un minuto di rovesciamento continuo e poi un rovesciamento ogni 30 secondi sono stati arrestati con lo stop dei lavellini sono stati fissati con il fissaggio 1 più 4 dei lavellini sono stati lavati per mezz'ora in acqua a 18 gradi microfiltrata sono stati passati in acqua depurata a cui è stato aggiunto del wetting agent quindi dell'imbivente e sono stati lasciati asciugare tassativamente a temperatura ambiente e adesso vediamo finalmente i risultati bene ecco la nostra rolle il super pan 200 esposta con la fotocamera assebalad primo fotogramma le radici vi ricordate nell'altro tutorial all'esposizione nominale dell'esposimetro secondo fotogramma stessa inquadratura su tre piedi ma con una sovraesposizione intenzionale di uno stop terzo fotogramma sottoesposizione intenzionale di uno stop quarto fotogramma avevamo modificato l'inquadratura e avevamo aperto il diaframma per avere uno sfondo più sfocato quinto fotogramma esposizione nominale sesto fotogramma sovraesposizione intenzionale di uno stop qui siamo al settimo fotogramma quel tronco fradicio col diaframma praticamente completamente aperto per avere lo sfondo completamente sfocato fotogramma successivo stessa inquadratura ma con il diaframma chiuso da F4 siamo passati se non ricordo male qui a F11 per avere una visibilità anche dello sfondo successiva location all'esposizione nominale dell'esposimetro stessa inquadratura con una sovraesposizione intenzionale di uno stop penultimo fotogramma lavorando con il diaframma F11 per avere una buona visibilità anche dello sfondo e ultimo fotogramma con il diaframma quasi completamente aperto per avere uno stacco fra il canniciato intrecciato in primo piano e lo sfondo beh, direi che questo negativo è stato esposto nella maniera corretta e sviluppato correttamente notate anche la trasparenza del supporto grazie al fatto appunto che la Rollei SuperPan 200 come altre pellicole di Rollei è l'emulsione stesa su PET e non su triacetato passiamo al passiamo al rullo successivo eccoci al secondo rullo realizzato con Asseblood tutti questi scatti sono stati fatti ahimè a mano libera però c'era luce abbastanza sufficiente per scattare con tempi non inferiori al 125esimo in secondo primo fotogramma questo splendido tronco abbattuto che taglia per metà un sentiero esposizione assolutamente corretta secondo fotogramma dove c'è la migliore leggibilità del tronco il fotogramma è leggermente sottoesposto di un terzo di stop terzo fotogramma esposizione perfettamente corretta quarto fotogramma mi sono mi sono concentrato su queste felci in controluce a f4 in modo che lo sfondo rimanesse completamente sfocato qui tra gli alberi si intravede il sole ma il sole non è riuscito a sfiammare l'immagine quinto fotogramma medesima situazione di prima con una leggera modifica dell'inquadratura siamo sempre a ground zero però non si prende la parte diciamo del sole attraverso gli alberi andiamo avanti sesto fotogramma questo è un tratturo un camminamento la messa a fuoco è stata fatta chiaramente sulla parte iniziale della staccionata per andare poi man mano a sfocare sulla parte finale passiamo al fotogramma successivo settimo fotogramma allora sembra sottoesposto ma in realtà c'è un'esposizione corretta perché vedete questo ramo completamente illuminato dal sole quindi è perfetto ottavo fotogramma qui in piena brughiera purtroppo la giornata era una giornata serena ma con una certa averatura di cielo purtroppo non avevo filtri quindi abbiamo una discrepanza notevole fra l'esposizione del terreno e la sovranetta esposizione del cielo chiaramente c'è anche il problema di quest'albero in primo piano per cui bruciare in stampa per tirare fuori il cielo non sarà una cosa facile ma a noi piacciono le cose difficili fotogramma successivo qui l'esposizione è errata è completamente sovraesposta si intravede si intuisse la base della brughiera agli alberi però il cielo poi va a perdersi proseguiamo con il fotogramma successivo queste peste di acqua e ghiaccio in un campo di mais che è stato appena tagliato fotogramma successivo sempre ancora abbastanza aperto però sicuramente più che stampabile aumentando il tempo di esposizione sotto l'ingraditore e poi qui l'ultimo fotogramma questa canneto con il fuoco fatto sugli elementi in primo piano e tutto il resto dello sfondo completamente sfocato bene adesso passiamo al terzo negativo sorpresa ecco il terzo negativo sorpresa che ho sviluppato insieme alle due super pan 200 esposte con asseblad è un rullo ilford pan f 120 scaduto probabilmente un rullo che è scaduto nel 1961 è stato esposto con una vessa prima quindi in formato 6x9 cm i dati di targa per la pellicola ilford pan f attuale prevedono usando lo studio alla direzione 1 più 15 3 minuti e mezzo di sviluppo all'edizione 1 più 31 6 minuti 7 minuti di sviluppo noi ci siamo lanciati e complice il fatto che la pellicola era scaduta da 60 anni abbiamo provato a sviluppare a 1 più 31 13 minuti e vediamo che cosa è successo a una pellicola scaduta 60 anni fa e esposta nel 2019 si tratta naturalmente di semplici scatti di prova tra l'altro scattati al tramonto in controluce quindi abbiamo un cielo molto carico mentre invece la parte diciamo il soggetto queste case ormai in ombra sono sia recuperabili in stampa ma al limite comunque l'immagine è venuta correttamente questo è un 6 per 9 cm secondo fotogramma di nuovo abbiamo perso il cielo però abbiamo un'ottima visibilità delle case che erano il soggetto principale terzo fotogramma di nuovo più che soddisfacente l'esposizione anche se è sottosposta di un terzo di stop delle case il cielo è recuperabile soltanto in fase di stampa in bruciatura un altro fotogramma questo è decisamente sottesposto anche se c'è ancora una buona leggibilità per quanto riguarda diciamo la parte urbana rispetto al cielo fotogramma successivo questo è decisamente sottesposta anche a questa parte qui praticamente non ci sono dettagli siamo ai limiti della stampibilità terzo ultimo fotogramma questo tratto di bosco con il cielo nel bosco c'è ancora comunque della materia quindi volendo salendo con la gradazione è ancora possibile salvare il bosco e bruciando il cielo dare sapore al cielo penultimo fotogramma di nuovo un bosco con un dettaglio di cielo inferiore comunque qui materiale per sviluppare ce n'è e ultimo fotogramma questo decisamente sottesposto più che altro è una silhouette di questa parte sommittale del cielo con le nuvole comunque negativo scaduto nel 1961 esposto nel 2019 e sviluppato nel 2019 esposto tra l'altro con una vecchia fotocamera best 1 6x9 comunque alla fine insomma direi che è più che più che soddisfacente bene allora direi che questa è un po' la summa del mio modo di concepire la fotografia argentica quindi consapevolezza imparare a guardare la realtà imparare a osservare la realtà solo a questo punto inquadrare attraverso una fotocamera e quinto passaggio obbligatorio decidere in base alla situazione se è il caso o meno di scattare o meno un'immagine io l'avete ormai capito prediligo lavorare su tre piedi voglio foto a cui dalle dalle emulsioni poter tirar fuori la massima nitidezza possibile quindi tre piedi livello a bolla scatto a distanza cerco di lavorare sempre con pellicole di media o anche bassa sensibilità ed è da tempo che ho messo nel mio procedimento lavorativo questo sviluppo che è il compianto studio Naldina Agfa o lo vogliamo chiamare R09 Spezia naturalmente in distribuzione che è l'Aiderofene di Bellini non però la diluzione 1 più 15 ma la diluzione 1 più 31 e ottenendo in questo modo una gamma tonale assolutamente incredibile e una grana praticamente impercettibile bene questa quinta e ultima puntata sull'allegro mondo asseblad è terminata con uno sviluppo assolutamente perfetto io sono molto soddisfatto vi auguro dalle vostre attrezzature di avere le stesse soddisfazioni che sto provando io e alla prossima signori arrivederci a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.